La formazione e l'avviamento di una nuova startup company o anche impresa, ovviamente con le differenze proprie delle due terminologie, sono assolutamente assimilabili ad un project e in quanto tale per la loro definizione, per la definizione sia di un'impresa che di una startup, può essere di assoluto ausilio l'utilizzo di metodologie tecniche di project management, quali ad esempio l'analisi e la valutazione iniziale, la gestione degli stakeholder, la valutazione dei rischi, la cultura degli economics, il saper fare pianificazione di tutti gli elementi indispensabili ad avviare unitamente a quelli che sono i due strumenti, chiamiamoli così, propri di un'impresa e di una startup che si deve avviare, vale a dire il business model e come conseguenza il business plan, assolutamente indispensabile per poi presentare in maniera sintetica attraverso un pitch agli investitori l'idea e la sostenibilità di questa nuova impresa, in modo da ottenere eventuali finanziamenti e quindi poter avviare dal vivo questa nuova impresa. In tutto questo percorso sufficientemente articolato, abbastanza difficile, abbastanza complesso per chi non è ovviamente abituato ad essere un imprenditore, ma ha necessità di formarsi in quanto tale, l'associazione Virgilio 2080, un'associazione che agisce nell'ambito dell'associazione internazionale del Rotary International, che può essere di assoluto supporto ai nuovi startup che vogliono intraprendere una nuova iniziativa. Grazie.